Dobbiamo sapere che il campo largo è minoranza e se capiamo questo forse dobbiamo anche capire che bisognerebbe incominciare seriamente a preoccuparsi di quel più del 50% di elettori anche in Molise. Il centro-sinistra che appartiene ad un'altra stagione, il campo largo che non basta più, Michele Laforgia, penalista, presidente della giusta causa, chiama i progressisti pugliesi a partire da quelli del capoluogo, ai nostri microfoni il monito ai civici eppure al Turese Michele Boccardi pronto a farne parte e un bilancio dei due mandati di Antonio De Caro dai fondi alla legalità al limite del mancato piano regolatore. Disse Marco Lacara quando era segretario dei temi, i civici sono un po' come il colesterolo, c'è quello buono e c'è quello cattivo, ma chi la dà la patente di buono e cattivo? I civici che qualche giorno fa su un giornale dicevano noi non ci staremo a fare i maggior domi di nessuno, quelli sono civici buoni o cattivi? Secondo me Marco Lacarra ha rischiato l'infarto con l'eccesso di colesterolo proprio per la questione dei civici. Le organizzazioni civiche non sono quelle che hanno una sigla e che si collocano formalmente fuori dai partiti, sono quelle che hanno un'origine in quella che un tempo, ma non si usa più questo termine, si chiamava società civile. I politici invece che danno vita a formazioni civiche stanno costruendo comitati elettorali, federazioni di comitati elettorali, raggruppamenti di comitati elettorali. È un po' difficile attribuire al mio amico Michele Boccardi la caratteristica di civico. Michele Boccardi è un ex senatore di Forza Italia che è in politica da tanti anni e che tutto è fuorché civico.